Un'interrogazione firmata dal consigliere comunale PD Stefania Pezzopane condivisa con tutta l'opposizione per chiedere conto della realizzazione del parco urbano di piazza d'armi del quale non si sa ancora nulla. 22 milioni di euro per una grande opera strategica di rigenerazione urbana e che prevede anche una riqualificazione dell'intera area. L'interrogazione vuole spingere l'amministrazione alla realizzazione dell'opera che ha avuto un percorso lungo e travaiato dopo la ricezione con l'azienda Rialto. Ci domandiamo ma è possibile che il progetto di rigenerazione urbana del grande parco di piazza d'armi sia ormai stato dimenticato? Ci sono 22 milioni di euro a disposizione derivanti 15 milioni da un bando del ministro delle infrastrutture proprio per la rigenerazione urbana, 3 milioni derivanti da una donazione degli australiani post terremoto e altri 4 milioni dalla legge mancia del Partito Democratico, deputati e senatori che si misero a disposizione per questo grande progetto. C'è stato un intoppo con la ditta che si era aggiudicata all'appalto, l'Arialto, ma dopodiché tutto tace, non è stata fatta nessuna interlocuzione e oggi non sappiamo. Per cui l'interrogazione è per capire se l'amministrazione intende, come noi ci auguriamo, procedere, se l'amministrazione ha in mente una procedura e se quei 22 milioni di euro possono essere immediatamente messi a disposizione di questo grande progetto. Sarebbe assurdo perderli, sarebbe assurdo non realizzarlo. C'è un teatro, c'è la possibilità di realizzare un parcheggio per i pullman, insomma un grandissimo progetto, molto bello per una zona che viene intasata continuamente da centri commerciali e a cui invece non si dà il respiro che il parco urbano potrebbe dare.